Io sono Enrico e faccio principalmente street photography e oggi voglio dirti quelli che secondo me sono 5 punti fondamentali per approcciarti a questo genere. La street è uno dei generi più discussi, soprattutto negli ultimi anni, ma non siamo qui per fare un trattato filosofico su cosa sia, cosa non sia, cosa è street o cosa non lo è. Quindi il primo punto che voglio affrontare è sicuramente quello di divertirsi per strada. Detto così può sicuramente sembrare banale, ma ciò che intendo è che pare street non vuol dire uscire un pomeriggio con la macchina fotografica, andare al parco, fare un giro, scattare una foto. Devi impegnare, devi andare in giro costantemente, cercare spot nuovi, trovare ispirazione e tutto questo deve piacerti, deve divertirti farlo, perché per fare street hai bisogno di tantissima pratica e tantissima pazienza. Chiaramente anche per tutti gli altri generi, ma fare street in particolare richiede una certa dose di sensibilità che sviluppi solamente stando a contatto con la strada e con le persone che ci sono. Il più fortunatamente questo è uno dei generi in cui infrangere le regole è la cosa più divertente che ci sia. Puoi inquadrare storto, puoi inquadrare dal basso, puoi fare quello che ti pare. L'importante è essere creativo. Quindi trova degli spot, tornaci più volte, come la mattina presto, il pomeriggio, la golden hour, la sera anche, perimenta e divertiti. La seconda cosa che voglio sicuramente dirvi è che dovete iniziare a essere selettivi quando scattate. Per street non vuol dire fotografare ogni cosa che vedi per strada, o almeno non lo vuol dire per me. Per esempio io in una sessione media di street di 3-4 ore scatto all'incirca 150-200 foto. Quando poi però me le riguardo, passano la selezione effettivamente forse in 10 e alla fine tiro fuori forse 1-2-3 foto quando proprio va bene. Questo chiaramente non sempre, magari ogni tanto ne scatto anche 10 buone, va bene. Quando scatto voglio che poi chi guarda quelle foto sia contento di guardarle, che trovi cose, trovi particolari, che abbia voglia di mangiarsele quelle foto, di divorarsele. Quindi che sia un particolare gioco di luci, una simmetria particolare, una persona che attira la vostra attenzione. Cercate di dar da mangiare qualcosa a chi guarda le foto. Collegandomi poi al fatto di essere selettivi, voglio anche dirvi di cercare di allenare l'occhio il più possibile. Ispiratemi, leggete libri, studiate, fate qualsiasi cosa serva per allenare l'occhio. Con i film, con qualsiasi cosa, veramente. L'importante è cominciare a rendersi conto dei propri limiti e del perché ti hanno quei limiti. Può essere per la post-produzione, per la composizione, per qualsiasi cosa. Studiate, informatevi, gete tantissimo, siate curiosi e volenterosi di crescere in questo percorso. Per ultimo punto, e qua cominciamo veramente con le cose fondamentali per fare street, ovvero il confronto con le persone per strada. Quindi, atteggiamento e attitudine. Sempre. Più farete street, più inevitabilmente vi troverete per vi confrontare con persone. Sia che queste persone siano magari solo curiosi, sia perché magari vogliono che cancelliate le foto in cui loro sono presenti. Può capitare, è successo anche qualche giorno fa, ma questo non deve assolutamente né puttarvi giù, né essere in modo di dire no vabbè, ma allora magari scattolo un po' più lontano. Fare street vuol dire anche essere disposti a correre dei rischi pur di avere quella foto. Quindi, fatevi trovare sempre sorridenti, continuate sempre a scattare. Chiaramente, usate la testa su quando non potete effettivamente farlo, perché magari diventa pericoloso o perché è un luogo in cui non potete. Però, per il resto, prendete fuori quella grinta che vi spinge a voler scattare e a voler migliorare, e fate di tutto pur di avere la foto che avete in mente. L'ultimo punto di questo video vuole essere un incoraggiamento a sperimentare e a essere creativi. A guardare, ma soprattutto a inquadrare le cose da un'altra prospettiva. Facendo street non faremo altro che cercare di rendere interessante una situazione banale, una situazione che vedi per strada sempre in continuazione, non solo tu che fai le foto, ma come noi che decidiamo cosa inquadrare, come inquadrare e cosa lasciare fuori. Quindi, cerchiamo sempre di fare in modo che ciò che inquadriamo sia effettivamente interessante. Come appunto stavo dicendo prima, cerchiamo di dare qualcosa da mangiare a chi sta effettivamente guardando poi la nostra foto. Cerca di non essere monotono, cerca di non essere banale. Per quanto magari a te quella scena effettivamente piace, cerca di renderla ancora di più. Cerca di metterci un po' di sale. Perché, per esempio, ciò che non è interessante, visto dal punto di vista dell'occhio, può esserlo dal basso verso l'alto. Quindi sperimenta. Bene, per questo video è tutto. Io vi super ringrazio per essere arrivati fin qui. In descrizione trovate tutti quanti i link col quale potervi seguire. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Ma soprattutto voglio ricordarvi che queste sono opinioni personali. sono ciò che faccio io. Quindi chiaramente possono essere condivisibili da tutti quanti. Grazie. Grazie.